Buongiorno, sono Giulia e oggi inauguro l'iniziativa Un Caffè a Palazzo, portandovi alla scoperta di Palazzo Maffei dalla sua terrazza panoramica. La facciata del palazzo è un esempio straordinario di architettura barocca a Verona e conserva ancora oggi le iscrizioni che ci tramandano i nomi di Marcantonio e Rolandino Maffei, i committenti del palazzo che nel 1626 chiedono al Consiglio Cittadino di poter costruire questa magnificente scenografia per decorare Piazza delle Erbe. Qui ci troviamo sulla terrazza panoramica che un tempo ospitava un rigoglioso giardino pensile e che ancora oggi ci permette di vedere Verona a 360 gradi.